Benvenuto tifoso della Juventus, rimani sintonizzato per tutte le notizie del mondo Juventus. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche. Ma veniamo subito alle notizie di oggi. Brutte notizie in casa Juventus. Purtroppo c'è da segnalare la stima di una possibile perdita di bilancio per 250 milioni di euro. Infatti, dopo una serie di utili registrati tra il bilancio del 2014 e quello del 2017, sono arrivati pesanti passivi negli anni a seguire. Sicuramente a contribuire è stata la pandemia degli ultimi due anni, ma nonostante la cessione di Cristiano Ronaldo, questo non ha contribuito a far diminuire il debito, anzi, è addirittura aumentato. C'è anche da registrare l'aumento di capitale portato a termine a dicembre dello scorso anno per complessivi 400 milioni, che ha contribuito ad abbattere il debito della Juventus e a ripararsi da possibili crack finanziari. Bisogna anche riconoscere il cambio di filosofia che è stato apportato soprattutto attraverso l'ultima sessione di mercato, cercando di sfoltire una rosa troppo onerosa e investire sui giovani talenti. In ogni caso, entro la fine di settembre, il CDA Bianconero dovrà approvare infatti il bilancio 2021-22 e scopriremo se il dato del passivo verrà confermato o meno. Tu come valuti le operazioni della Juventus negli ultimi anni? Faccelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto, io ti rimando per un prossimo video con altre notizie della Juventus.